Musica Uccidere l'orso che ha aggredito due cacciatori, questa è la decisione di Maurizio Fugatti, presidente della provincia autonoma di Trento, che sembra non avere dubbi, ma i dubbi ci sono e sono anche molti. Innanzitutto non è chiaro chi sia questo orso e poi non è possibile pensare di procedere con gli abbattimenti invece di investire in campagne di educazione. Anche il WWF si schiera a favore dell'orso, ma soprattutto contro le condanne a morte prese alla leggera e così il ministro Sergio Costa sulla vicenda dichiara La mia posizione è sempre stata la stessa e non è cambiata, gli orsi non si uccidono. Il tema dell'abbattimento degli animali è molto complesso e va analizzato in modo molto ampio e scientifico. Qual è esattamente l'obiettivo dell'essere umano nei confronti della natura? Amiamo gli animali chiusi negli zoo, nelle gabbie e gli spariamo a vista in libertà, ma questo non è amore, ma ignoranza e opportunismo.